Una malattia infettiva Buongiorno dottor, signor Raffaele, o figlio di Santuzzo Locraparo, voglio sapere se tua bustoria venisse a visitare a moglie mia. Teni come uno spasimo intro il petto, si è tappeso morto sul provoletto e si può provo a meci avvicinare l'adoro chiaio e i grappa a fannasiare. E si insisto per stare in compagnia li piglia di un attacco i pilissia che addomba squale un basta nanottata per riesci a ridare una carmata. Ed a ramatina è così spinito che ho trovato in trovoletta manzupito. Ed a rosandomo per la nottatella io la condiendo con una ricottella. Ma Rosinella, che è assai ansiosa, con don Pasquale mose incapricciata che ha chiamato i Giovanni da Pirrera e giuto puro a dare un'alleggiata al ridolore della sua mogliera. E così mi ha mandato a ti cercare e mi ha avvertuto la signora mia che andrò il paese c'è un'epidemia di che sono male della pilissia. E siccome i miei guaritori casunno li curati e li dottori stiecca pulipigliano l'arduri e non si è trovata ancora a cura e scorta ad aspettare il consulo ci può rimani morta.